Ciao a tutte ragazze, oggi recensione su un negozio fisico a Malnate in provincia di Varese che si chiama Creando sulle ali della fantasia, un negozio che se non sbaglio non vende online, è un rifornitore ufficiale di Miyuki e di Swarovski, poi contiene tantissime altre bellissime cose e tutte le volte che entro lì entro con l'idea di prendere una cosa e riesco sempre con molta più roba, un po' penso come tutte noi, e niente, quindi mi sono recata lì perché non volevo fare un ordine su un sito internet soltanto per le Rocail da 8 e da 11.0 che non trovo e mi servono per realizzare il Granada e quindi mi sono recata appunto lì e ho trovato un po' tutto, anzi anche molto di più. Allora, le Rocail da 8 aveva pochi colori, io vi mostro i codici e poi a chi interessa magari quel tipo di colore o è curioso di vederlo meglio, vi consiglio di magari vederlo su internet perché ho perso il foglietto che mi ha lasciato la signora con ogni codice, il proprio nome del colore, ovviamente. E niente, le Rocail da 8, appunto ho preso 3 sacchetti, 5 grammi l'uno, codice 451 che è il classico e matite, poi ho preso il 4 e 60 che è un viola, a voi non sembrerebbe ma è un viola abbastanza brillante e poi il 591, il classico ed è il mio preferito, il bianco perlato. Anche questo davvero, a me non mi piace davvero tanto. Poi ho preso le Rocail da 11, in questo caso le Rocail e le Delica, secondo delle misure, avevano proprio i cassetti dedicati a ogni colore e ho preso questo lilla, codice R12, da abbinare magari con il viola che vi ho mostrato prima, codice 37B che è questo bianco, è matte, non è trasparente ma comunque la sua scena la fa, è proprio matte questo. Poi R2002B che è un matte, un matte su un blu, un blu, sì, e un R2012B che è sempre un matte, molto simile a quello precedente ma dà un po' più sul grigio verde. Ecco, entrambi sono due colori belli, ecco, magari questi sì, andateli a vedere. Poi ho preso e ho pagato anche tanto le Rocail da 11,0 argento, perché come sapete l'argento in base alla tipologia, se è galvanizzato, se è iridescente o vari altri tipi di cose, cambia il prezzo secondo appunto di com'è. Il codice R190F, l'ho pagato un po' però secondo me vale la pena. Poi ho preso due tipi di Rocaila 15,0, un verde da abbinare magari anche con tutto quello che poi vi mostrerò, e un 199K che è un oro. La signora mi ha detto che contiene appunto punte d'oro e anche questo l'ho pagato un po' però molto bello perché anche se a me non piace il giallo e l'oro insomma dipende. Questo qua contiene anche tutti i colori dell'arcobaleno come potete vedere e secondo me escono dei bei lavori, un po' più particolari del solito. Poi ho preso le Delica, le Delica normali 11,0, le ho prese sul verde appunto per abbinare perché non avevo nulla, 508 e questo qua anche questo l'ho pagato tanto. Non mi ricordo cos'è perché ho perso il foglio e bene, comunque l'asciura mi ha detto che è carino, che comunque è particolare e iridescente forse, insomma se non ricordo bene e costa. Quindi questo, poi ho preso un verde un po' più chiaro, codice 413, che questo è spettacolare, questo forse è galvanizzato, ma insomma è da prendere, da vedere. E poi questo verde, codice 27, un po' più scuro, un verde scuro sempre con tutti i colori dentro, varie sfaccettature, però è molto bello. Poi due tipi di bianco, l'avevo finito, bianco codice 202, ed è un bianco perlato AB, non è male. E poi un 670 come bianco, che vabbè qua la differenza la vedete poco purtroppo con la telecamera, però uno il 670 è un po' più matte, meno perlato rispetto al 202. Poi ho preso le classiche perle, per fare appunto il granata, 22 perle verdi dello Swarovski, 22 perle white dello Swarovski, 22 perle matite. Diciamo io volevo un grigio, ero indecisa tra un grigio e un nero, e ho scelto le matite ovviamente, che è via di mezzo. Poi ho preso i cabochon, due cabochon in plastica, uno color oro e uno color argento. Le misure magari se vi interessano ve le dico, ve le scrivo, sono molto carini. Poi c'è un cabochon anche della stessa misura, però di questa tipologia, blu, un po' più scuro di quello che vedete, con tutte le varie striature dentro. Stessa fantasia il verde, adesso mi sono innamorata del verde, ma reputo che sia un colore che in inverno va molto bene. Poi ho preso due cabochon in resina, questo che mi piace perché poi adoro il bianco e il nero, che è appunto una macchia di nero sotto a una base bianca. E questo qua che è proprio particolare, è un verde blu. Anche qua magari incassonarlo con dei colori proprio verde, un blu, insomma, per mostrare appunto la bellezza di questo cabochon dovrebbe essere appunto l'ideale. Questo è il tutto. Poi ho preso una novità, una novità sono questi fili, che non ho almeno visto su internet. Questi fili, questi fili è una rete, una rete dove praticamente con una chiusura fatta tipo a mollettina, poi vi mostrerò perché comunque ho realizzato un campione per me, un po' bruttino, ma va bene così, dove praticamente si inserisce dall'altra estremità con un cono di carta della conteria. Questa è l'idea, conteria colorata, perle, mezze cristalli. Io per esempio vorrò far fuori un po' di materiale sia di conteria che di mezze cristalli che ho lì a far niente e almeno recupero un po' di soldi e faccio fuori quello che ho lì da n anni o mesi a far niente. Io ho preso un metro per ogni colore, nero, rosso, viola e bianco e l'ho pagato 99 centesimi al metro, quindi anche molto molto economico. Ho preso per ora della conteria oro da mettere dentro e della conteria che l'avevo finita bianca, perlata. Ovviamente quello che si inserisce dentro, diciamo che per magari fare una creazione non troppo costosa, non deve essere di pregio, diciamo, comunque di qualità proprio anche le perle. Uno, in verità, potrebbe mettere dentro anche quelle di plastico, delle perle in vetro, piuttosto rispetto a quelle dello Swarovski, che magari riempire 50 centimetri di filo con quelli, comunque farebbe salire la creazione e poi ognuno potrà fare quello che vuole. Io vi mostro quello che ho fatto, ho fatto questo per me, una prova, dove nella retina bianca ho messo dentro la conteria oro, ho fatto proprio a giro collo strettissimo perché a me piace così, però comunque all'estremità, ecco, a proposito, questa è la famosa chiusura, all'estremità comunque gancerò una catenina per regolarla a seconda delle occasioni che la indosso. È molto bella, è molto luminosa, particolare, l'idea è quella anche magari di realizzarla con dentro appunto le perle, rendere anche la colana un po' particolare e poi perché no, magari attaccare con una fascetta in peyote un nostro gabochon. Insomma, è un'idea un po' diversa che volevo appunto mostrarvi e magari proporvi. Niente, questo è quello che ho acquistato, il prossimo video sarà sicuramente di creazioni che sto ultimando, e niente, vi mando un bacio, alla prossima, ciao!